Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo tornati nel terzo municipio per portare avanti anche non solo le varie notizie ma la campagna elettorale di Bevilacqua. Ci racconterà un po' quello che è accaduto in questa campagna elettorale. Buonasera a tutti. Sono tre mesi che con lo staff del comitato elettorale, con Emiliano Bono, con un gruppo di amici in questa avventura ci siamo riuniti e siamo partiti con l'intento di voler cambiare finalmente questo nostro municipio. Bene, abbiamo seguito un po' tutta la campagna elettorale anche se non ci siamo visti, abbiamo comunque seguito da lontano tutto l'iter diciamo promozionale. Abbiamo visto anche una cosa particolare, una bottiglia di vino che rappresenta appieno un po' la tua candidatura. Sì, diciamo che la storia del vino nasce da lontano, nasce dalla mia prima candidatura che per il cognome a me particolare vogliamo dirlo così è nata l'idea di sostituire i manifesti o i volantini o comunque di sostituire il cartaceo con la bottiglia del vino perché e da lì nacque il primo motto che era il vino se bevi l'acqua se voda perché ogni stretta di mano per piacere bevi l'acqua, no è meglio il vino o le altre cose. C'ho mia sorella che a scuola l'hanno massacrata insomma, si chiama Marina quindi bevi l'acqua Marina, sputala che è salata. Cioè è normale che ci stanno tutte le cose e allora ci siamo inventati questo connubio tra il vino e l'acqua perché ogni volta era abbattuta più semplice è meglio avere un po' di autoironia. Poi se mettiamo a questo, se aggiungiamo il fatto che economicamente costa meno dei manifesti produrre il discorso del vino ho detto, manifesto messo normalmente viene visto da una persona 38 secondi se lo vedi perché poi sai con la sovrapposizione degli altri sparisce. L'idea della bottiglia è nata per questa cosa qui, comunque ai cittadini è diventato quasi un caldo. Io con piacere, ormai sono 30 anni di esperienza politica in questo municipio, con piacere noto quando vado a casa dei cittadini che magari gli porti le manine, le famose manine o la bottiglia mi fanno vedere la collezione delle precedenti quindi le tengono pure come ricordo insomma e fa piacere. Bene, bene. E poi ha colpito in questa fase giornalisticamente perché siamo finiti anche sui giornali per questa cosa ha colpito la poesia romanesco scritta sul retro che dà la spiegazione del perché. Dicevano a Antichi, nel vino c'è saggezza, così per non sporca li rioni di monnezza con manifesti e fuori che imbrattano la via ve dico che me candido da sopra sta bottiglia. Ed è stato il messaggio che ha colpito pure. Diciamo che abbiamo unito un po' di autoironia, pure di cogliardia per poter comunque rompere gli schemi di questa comunicazione triste. Tanto in questo periodo siamo tutti buoni, tutti bravi, tutti abbiamo la soluzione ai problemi al traffico, alla mondezza, al lavoro. Comunque i candidati in se stessi sono quelli. Io ho fatto il discorso al contrario. In questa campagna elettorale ho voluto ascoltare i cittadini. Cioè, che mi proponi per i prossimi cinque anni? Cosa dobbiamo fare per i prossimi cinque anni e lo dovremo fare insieme? Non lo possiamo fare solo. E cosa è stato suggerito per questi cinque anni? Beh, molte idee e molti cittadini mi hanno dato gli spunti di perseguire una vecchia battaglia che facevamo quando noi abbiamo governato questo municipio ormai 14 anni fa che è stata la giunta più innovativa per il territorio detto ad esempio dai... ma anche dagli avversari stessi cioè perseguire quelle che sono le iniziative con la partecipazione del pubblico privato i famosi sponsor, quelli che vengono detti sponsor magari nell'amministrazione pubblica nelle scuole, nel inserire energie private all'interno dell'amministrazione pubblica laddove l'amministrazione pubblica non può provvedere al rifacimento delle palestre o al rifacimento delle aree giochi per i bambini o al rifacimento... ecco questa è un'iniezione, chiamiamola così, di cose belle, belle fatte in quell'epoca dove abbiamo governato in questo municipio ed è stato il vero crack di questo municipio perché non c'era mai stata una tendenza all'utilizzo del privato per la cosa pubblica e ha funzionato benissimo, tant'è che gli esempi ce li abbiamo e li avete visti l'altra volta quando abbiamo visitato il municipio cioè la sala matrimoni del terzo municipio che è una delle più richieste di Roma è stata fatta esclusivamente con fondi privati senza toccare un centesimo di soldo pubblico cioè gli sponsor sono intervenuti come sono intervenuti gli sponsor per, a quei tempi quando noi governavamo intervennero gli sponsor per far rifunzionare il famoso orologio di Piazza Sempione che dettava i tempi a tutta Montesacro di quelle che era l'orario come... vada, ce ne sono state una marea di iniziative di questo tipo che hanno dato i loro risultati sicuramente quello che ci chiedono i cittadini di riprendere quell'esperienza che è stata sicuramente un'esperienza positiva per il territorio e che può dare enormi risultati per lo stesso quello sicuramente noi ti ringraziamo e in bocca al lupo crepi crepi o viva il lupo cioè dite voi la definizione perché so che poi adesso c'è chi ti dice no, non crepi il lupo allora perché c'è lei con la rima comunque io so da Lazio quindi fate come vi pare